Per i lavori di ristrutturazione dello stadio Jacobone del centro polifunzionale Ricciardi di Taranto, 5 le società in ballo per poter aggiudicarsi i lavori in vista dei giochi del Mediterraneo 2026 e troviamo il consorzio ITM di Salerno, Matarrese S.P.A. di Bari, CN Costruzioni Generali S.P.A. di Modugno, Ferrare S.P.A. di Roma, che si è già aggiudicata ai lavori per la realizzazione dello stadio del nuoto, il consorzio stabile Buldescarl di Roma e il consorzio srabile Artemide di Roma. Tra una settimana la Commissione deciderà. Il bando unico prevede un importo di 23,8 milioni di euro per il Pala Ricciardi e 59,75 milioni per lo Jacobone. L'impresa vincitrice realizzerà una sola delle opere, l'altra sarà assegnata alla seconda classificata. Il tutto mentre per lo stadio del nuoto sono iniziati da giorni gli interventi di pulizia e così come impone la legge la bonifica dell'aria da eventuali ordigni bellici. Sono queste le prime attività della Ferraro Costruzioni, l'impresa romana che si è aggiudicata all'appalto per la costruzione dello stadio del nuoto di Taranto e intanto la Regione Puglia ha assicurato il supporto sanitario nel corso della manifestazione sportiva. Sarà uno dei punti all'ordine del giorno nella prossima riunione del comitato direttivo del nuovo comitato organizzatore. Un'altra buona pagina di politica, ha commentato Cosimo Borraccino, consigliere del presidente Emiliano. Un segnale, aggiungiamo noi, del mutato clima che avvolge finalmente i giochi del Mediterraneo, dove polemiche ormai finalmente dimenticate, così sembra, hanno rallentato di molto il lavoro per le dotazioni infrastrutturali che oggi invece la struttura commissariale guidata da Massimo Ferrarese tenta di recuperare anni e mesi che si sono frapposti tra il dire e il fare.